ciao a tutti oggi vediamo come si creano le maschere la maschera non è nient'altro che un ritaglio applicato a un livello cioè la maschera serve a isolare una zona del livello da tutto il resto bene la composizione in cui lavorare l'ho già creata l'ho chiamata creazione maschere e come livello sul quale applicare una maschera uso una fotografia e prendo questa foto bene gli strumenti che adesso noi useremo per ritagliare il livello sono gli stessi che vengono usati per creare gli shape layer e quindi sono le forme semplici rettangolo ellisse poligono e stella oppure il pennino per creare forme personalizzate visto che gli strumenti sono identici a quelli delle shape layer bisogna stare attenti a com'è la situazione nella timeline di volta in volta cioè se per esempio nella timeline non c'è selezionato nulla e io in questo caso adesso disattivo la fotografia cliccando in un punto vuoto ora la fotografia non è più selezionata e se prendo lo strumento rettangolo ad esempio e vado a usare lo strumento che succede ho creato uno shape layer cioè un rettangolo colorato come già sapevamo questo è successo perché nulla era selezionato nella timeline adesso elimino il rettangolo e creo una situazione diversa cioè nella timeline c'è selezionata questa fotografia quindi clicco sopra e la seleziono con lo stesso identico strumento il rettangolo adesso di nuovo disegno un rettangolo ma che succede che questo rettangolo ritaglia la fotografia con la forma che ho disegnato e questo ritaglio è la maschera nella timeline si vede dentro il livello della fotografia una sezione che si chiama masks che prima non c'era che contiene un oggetto maschera 1 che è appunto il ritaglio ora nella timeline la seleziono e la elimino clicco il tasto canc e la elimino di nuovo la fotografia è tornata intera senza ritagli se uso un'altra forma per esempio l'ellisse clicco e disegno un'ellisse ho ritagliato la fotografia quindi vedo la fotografia soltanto dentro l'ellisse seleziono la maschera e elimino ancora vi faccio un altro esempio un ultimo questa volta magari prendo una stella e ritaglio la fotografia a forma di stella bene queste sono delle maschere ottenute usando le forme semplici che after effects mette a disposizione la seleziono e la butto via un'altra volta se invece volessi ritagliare la fotografia con una forma personalizzata allora dovrei usare lo strumento pennino quindi lo seleziono qua su in cima vengo qui e lo utilizzo come lo utilizzerei per creare uno shape layer cioè potrei usarlo creando vertici semplici senza maniglie in questo modo cliccando e lasciando andare poi spostandomi cliccando da un'altra parte e avanti così vi faccio notare che la maschera è già stata creata e finché io proseguo così la maschera rimane aperta è un tracciato aperto non chiuso per cui non ritaglia se io voglio che la forma disegnata da me ritagli devo chiuderla e per chiuderla quando terminato di creare la forma devo cliccare sul primo vertice creato quindi adesso io per chiuderla riclicco sul primo vertice che è questo qui in alto a destra a questo punto la maschera chiudendosi ritaglia il livello seleziono la maschera e la elimino di nuovo per farvi vedere che oltre a disegnare vertici del tipo lineare posso anche crearli cliccando e trascinando di volta in volta in modo tale che i vertici hanno queste maniglie che mi permettono di curvare il tracciato le regole per disegnare questi vertici sono le stesse che si utilizzano per disegnare degli shape layer quindi o vertici semplici o vertici con le maniglie per creare delle curve di besie bene elimino un'altra volta la maschera e torniamo con la fotografia intera adesso vediamo come è possibile modificare una maschera una volta che è stata creata per fare questo prendo di nuovo lo strumento rettangolo e disegno una maschera intorno al volto di questo personaggio e per modificare la maschera devo prendere lo strumento selezione e al momento i vertici sono tutti e quattro selezionati per selezionarne uno basta che io clicco vicino al vertice e poi trascino finché con un lazzo seleziono solo quel vertice lì adesso gli altri non sono più selezionati a questo punto posso prendere il vertice spostarlo dove voglio e quindi la forma della maschera si modifica posso prendere questo vertice posso prenderne un altro posso prendere più vertici contemporaneamente se li seleziono insieme cioè per esempio se volessi selezionare questi due vertici del lato sinistro contemporaneamente col solito sistema del lazzo una volta presi possono essere spostati contemporaneamente due oppure posso selezionarne uno e poi shift un altro e via così in modo da sommare la selezione dei vertici poi posso spostarli oppure posso anziché selezionare i vertici selezionare i lati cioè per esempio posso selezionare il lato destro e spostarlo oppure il lato in basso e spostarlo quindi posso modificare la maschera punto per punto o lato per lato usando lo strumento selezione questo è un modo per trasformare la maschera un altro metodo invece che mi permette di trasformare la maschera tutta insieme è questo cioè con lo strumento selezione faccio un doppio clic sul bordo della maschera un punto qualsiasi del bordo per esempio qui doppio clic a questo punto ho selezionato tutta quanta la maschera intera me ne accorgo dal fatto che adesso la maschera era chiusa da una cornice bianca e questa cornice bianca può essere selezionata lato per lato per esempio il lato destro lo posso selezionare e trascinare oppure il lato sinistro oppure in basso oppure se mi avvicino a uno degli angoli posso anche ruotarla compare il simbolo della rotazione e la maschera tutta intera può essere ruotata oppure se clicco all'interno della maschera posso selezionarla e spostarla tutta intera da un'altra parte oppure ancora posso prendere uno spigolo e tirare in modo tale che si allarghi e se tengo premuto il tasto shift mantengo le proporzioni e se voglio uscire da questa situazione in cui controllo tutta quanta la maschera intera basta che clicco il tasto esc sulla tastiera vedete che quel rettangolo bianco che conteneva la maschera è sparito e adesso di nuovo ho a disposizione i singoli vertici della maschera quindi ricapitolando la maschera una volta disegnata può essere modificata punto per punto se seleziono i vertici e poi rimuovo oppure se faccio un doppio clic su qualsiasi punto del bordo per esempio qui posso modificare la maschera tutta intera posso spostarla allargarla oppure ruotarla bene ora elimino di nuovo questa maschera la seleziono nella timeline e la cancello ora vediamo cosa succede quando ho più di una maschera allargo un poco la foto seleziono la maschera rettangolare e disegno la maschera intorno al volto bene adesso veniamo qui nella timeline se io ho una maschera sola ho la possibilità qui nella timeline di utilizzarla in due modi diversi così com'è mi fa vedere la fotografia all'interno del rettangolo ma se io nella timeline attivo il bottone inverted qua la maschera funziona al contrario cioè mi fa vedere ciò che è fuori dal rettangolo e mi elimina ciò che è dentro il rettangolo quindi la posso usare in due modi oltre a quello c'è un piccolo menu sulla sinistra dove c'è scritto add aggiungi io posso scegliere altre voci potrei per esempio scegliere la voce non a quel punto la maschera non agisce più sulla fotografia non taglia più niente continua ad esistere come tracciato rettangolare ma non ritaglia vista così sembra inutile una maschera però può servire anche ad altri scopi oltre a ritagliare un livello può tornare utile quando entra in combinazione con alcuni effetti che sfruttano il tracciato per creare appunto degli effetti particolari ma questo lo vedremo in seguito quindi una maschera può essere disattivata adesso io la riattivo rimetto su add oppure può essere combinata con altre maschere se io aggiungo più di una maschera a un livello e così vedremo cosa servono queste altre voci che vengono dopo la voce add quindi lascio questa maschera rettangolare ne aggiungo una seconda magari di forma ellittica qua sotto e faccio in modo che le due maschere si intersechino bene qui nella timeline adesso ci sono due maschere la maschera 1 che è il rettangolo e la maschera 2 che è l'ellisse vediamo un po come possono essere combinate queste due maschere entrambe hanno la voce add attiva il che significa che ogni volta che io disegno una maschera quella maschera si aggiunge alla precedente ma se per esempio la maschera 2 anziché avere la voce add gli applico la voce subtract il risultato finale è che io vedo il contenuto della maschera 1 meno il contenuto della maschera 2 se ad esempio io usassi la voce intersect il risultato finale cambia di nuovo non vedo più quello che c'è nella maschera 1 nella maschera 2 ma vedo ciò che appartiene contemporaneamente a tutte le due le maschere cioè l'intersezione delle due maschere saltiamo le due voci light and dark che hanno a che fare con la semitrasparenza delle maschere ma oggi non lo vediamo e andiamo direttamente a difference che è l'opposto dell'intersezione l'intersezione era questa parte l'opposto sono ciò che rimane torniamo un attimo alla voce subtract perché per farvi capire che è importante l'ordine delle maschere in questo momento io ho una situazione così che la maschera 1 è la prima e la maschera 2 è la seconda il risultato è questo ma se io rimetto add anche la seconda maschera inverto l'ordine delle maschere nella timeline cioè prendo la maschera 2 e la sposto prima della maschera 1 e adesso alla maschera 1 dico sottrai il risultato cambia io ho l'ellisse come prima maschera e il rettangolo che è la seconda maschera sottrae la prima quindi nel caso di operazioni fra maschere l'ordine delle maschere nel livello è importante se una maschera viene prima o dopo un'altra il risultato finale può cambiare adesso rimetto anche alla maschera 1 la voce add in modo che si vedano entrambe le maschere e per ultima cosa vi faccio vedere quali sono le proprietà delle maschere se apriamo il contenuto di mask 2 e di mask 1 vediamo che entrambe hanno quattro proprietà andiamo in considerazione queste qua della maschera 2 la prima proprietà delle maschere si chiama mask path che tiene sotto controllo la forma dell'ellisse ve la spiego tra un attimo prima vediamo le altre tre che sono più semplici da capire la mask federe invece è la proprietà che gestisce la sfumatura lungo il tracciato della maschera cioè se io aumento il valore di mask feather vedete che la maschera non è più un taglio netto tra ciò che si vede e non si vede ma è sfumata lungo il bordo e più aumento questo valore più la sfumatura si allunga a 0 la maschera un taglio netto e a più aumento e più sfuma l'opacità l'opacità se io la basso dal 100% mi abbassa l'opacità all'interno di quella maschera mentre invece all'interno della maschera 1 l'opacità è rimasta al 100% perché la mask opacity della maschera 1 è ancora al 100% quindi posso gestire l'opacità maschera per maschera e poi c'è la mask expansion l'espansione della maschera ovvero la forma della maschera rimane ellittica ma si riduce oppure si espande oltre il confine del tracciato della maschera bene queste tre proprietà sono molto semplici e intuitive ora adesso vediamo nel dettaglio la prima proprietà la mask path e prima di farvi vedere questo elimino la maschera 2 la seleziono e la cancello e mi concentro sul mask path di questo rettangolo e siccome questa proprietà come vi ho anticipato prima gestisce la forma della maschera il suo uso diventa interessante quando la forma della maschera cambia nel tempo e quindi per essere più chiari facciamo subito un esempio io mi metto al tempo 0 col cursore e accendo l'orologio di questa proprietà mask path bene cosa significa ho fissato la forma di questa maschera al tempo 0 ora avanzo fino a un secondo e cambio la forma della maschera per fare questo prendo lo strumento selezione faccio un doppio clic sul bordo della maschera in modo tale da poterla modificare tutta quanta insieme allargo verso il basso il lato destro e poi allargo anche il lato sinistro quindi automaticamente si è aggiunto un secondo keyframe alla proprietà mask path perché adesso un secondo la forma della maschera è cambiata faccio una preview e vedrò che esattamente la forma della maschera cambia nel tempo in un secondo da piccola intorno al volto si allarga recuperare tutta quanta la fotografia per cui questa proprietà gestisce la forma della maschera che può cambiare nel tempo e queste sono le proprietà base delle maschere ora io ho applicato la maschera ad una fotografia naturalmente le maschere possono essere applicate a qualsiasi genere di livello per esempio adesso io elimino questa fotografia e aggiungo un video per esempio questo e se prendo lo strumento rettangolo col video selezionato io posso tagliare il video così come ho fatto sulla fotografia quindi funziona sia sulle foto sia sui video cancello il video potrei aggiungere una grafica per esempio questa auto arancione in questo caso ma non lo so tra i prendere e tagliare soltanto la ruota sinistra quindi funziona anche su un file vettoriale illustrato su qualsiasi file potrei anche scrivere un testo e tagliare un testo naturalmente c'è l'eccezione degli shape layer per quanto riguarda gli shape layer la situazione particolare perché se io non ho niente della timeline prendo lo strumento rettangolo e disegno un rettangolo o uno shape layer e se adesso volessi tagliare una maschera all'interno di questo rettangolo dovrei usare comunque lo stesso strumento ma se io prendo lo strumento rettangolo e disegno un rettangolo non faccio altro che aggiungere un secondo rettangolo eccolo qua allo shape layer che ho creato un attimo fa per cui sembrerebbe che non si possa mascherare uno shape layer mentre in realtà è possibile ora io elimino il secondo rettangolo che ho creato lo seleziono lo elimino rimango col primo rettangolo e prendo di nuovo lo strumento rettangolo ma prima di disegnare un rettangolo qui nella parte destra degli strumenti base qui se lascio acceso questo bottone a forma di stella e proseguo a disegnare delle forme creo delle forme degli shape se invece utilizzo il secondo strumento che è questo qui allora anche se ho selezionato uno shape layer creo una maschera proviamo ecco ho creato una maschera all'interno dello shape layer perché ho usato la seconda opzione qui sulla destra non la stellina ma quell'altra che crea delle maschere all'interno degli shape layer bene e con questa ultima osservazione che riguarda le maschere applicate agli shape layer per oggi ci fermiamo qua più avanti nel corso vi farò vedere che le maschere possono essere utilizzate non solo per ritagliare i livelli ma anche per altri scopi se vengono usate insieme con degli effetti particolari quindi per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima ciao